Amico mio mi raccomando, prima di cominciare io ti invito ad andare nel negozio oggetti Sì, ho la skin bancata, non fa nulla però è lo stesso, bellissima Tasto supporto a un creatore, in basso a destra e inserisce adesso L'unico, solo ed inimitabile codice creatore Joe trattino x97, tutto maiuscolo proprio come puoi vedere qui dietro di me Ed ancora qui sotto di me, io naturalmente lo vado a riaggiornare perché non posso non riaggiornarlo Joe trattino x97, perfetto, clicchiamo su accetta e adesso siamo pronti per fare una valanga di Victory Royale Come letto dal titolo, la nuovissima skin di Green Goblin è arrivata su Fortnite E ti dirò anche come ottenerla, probabilmente gratis Però prima di dirti tutto questo, io ti invito ad iscriverti al canale Attivando la campanella delle notifiche per non perderti nessun mio video e nessuna live tutti i giorni alle 18 E beh, ti dico una cosa bella, siamo arrivati a 50.000 iscritti Segnati bene questa data, sabato 22 gennaio ore 17 Mega live nei server privati insieme al nostro caro Mattiz Proprio questo sabato 22 gennaio alle 5 del pomeriggio Ti voglio presente con tutti i tuoi amici perché ci saremo io e Mattiz in live Qui sul mio canale per giocare server privati Sei invitato tu con tutti i tuoi amici, con la tua squad, con la tua trio a partecipare perché ci divertiremo veramente un monto Beh, e allora a questo punto 300 mi piace entro le 24 ore E magari, non so, nei server privati con Mattiz faremo pure una bella sfilata di moda È una sfida un po' strana ma bellissima Lascia adesso un bel like Spacca il tasto di mi piace come al solito la sfida è nelle tue e nelle vostre mani Ma detto ciò, da dove comincio? Beh, allora intanto possiamo subito dire che ci saranno 3 nuove skin gratuite Che naturalmente verranno messe tra la fine di questa stagione 1 del capitolo 3 e la season 2 Sempre del capitolo 3, no, del capitolo 456 magari Iniziamo subito con la skin di Green Goblin che è proprio l'argomento principale del video Ormai abbiamo capito tutti che Fortnite ama alla follia Spider-Man Infatti ci sarà il nuovissimo bundle gratis di Spider-Man Miles Morales Che dovrà essere aggiunto nella season 2 del capitolo 3 ed esattamente il 22 marzo Perché mi sto documentando giorno dopo giorno e questa data sempre essere quella più ufficiale Quindi il 22 marzo uscirà gratis questo bundle Che naturalmente comprenderà la skin di Spider-Man, lo zainetto, il piccone e le motte Che sono veramente spaziali tra l'altro questa skin di Spider-Man Miles Morales è totalmente diversa rispetto alla skin di Spider-Man Insomma del signor Peter Parker che è uscita qualche tempo fa Ecco comunque la skin di Green Goblin Non mi ha dato neanche il tempo però abbiamo l'anteprima mondiale di questa skin Io penso di essere uno dei primi in Europa Nord Occidentale che vi porta questo video Perché dovete sapere che un, diciamo, cerrimo nemico del nostro Spider-Man è il signor Goblin Mi ricordo che loro combattevano, il Goblin mi sembra che lanciava quelle granate che poi esplodevano Ed era veramente fortissimo Uno dei personaggi più forti di Spider-Man E chiaramente novità dell'ultimo, penso, momento dell'ultime 24 ore La skin di Green Goblin arriverà gratis su Fortnite Però naturalmente prima del 19 marzo, quindi della season 2 Probabilmente hanno dato una data, io spero che sia questa Il 5 marzo, infatti, abbiamo prima la skin di Green Goblin Che sarà verso la fine della season 1 Dopodiché inizia la season 2 ed esce il bundle gratis di Spider-Man Beh, beh, effettivamente anche come ragionamento logico ci sta un botto E naturalmente questa skin la potremmo ottenere con un torneo Perché arriverà il Green Goblin Tournament Giocatore di Fortnite, cosa dovrete fare? Sarà un torneo in duo Quindi ci sarai tu e il tuo amichetto, mi raccomando Codice GiotrattinoX97 nello shop Inseriscilo, se no questo torneo Insomma, non è che ci sono molte possibilità di vincerlo E beh, dovrai giocare e per vincerla questo è veramente, veramente complicato Perché una skin così bella naturalmente non è che la possono avere tutti Dovrai classificarti in top 4% per i budini europei Quindi insomma, le cose sono molto complicate E dobbiamo stare attenti perché in questo torneo Ora, non so bene come funziona il livello di punti Però dicevano che è più facile fare tanti punti Quindi alti punti è un consiglio che ti posso dare Mi raccomando, non fai dare subito Gioca un pochino camperato Perché se no sono veramente guai Però, comunque spero che questo bundle gratis E che questa skin gratis ti abbiano reso super felice E ti abbiano migliorato la giornata Se così è stato, lascia un bel mi piace Ed iscriviti al canale Prossima ricompensa Che beh, tra l'altro questo sta diventando praticamente un video delle ricompense Vabbè, è uscito un nuovo oggetto gratis Per i possessori di PS4 e PS5 Perché, infatti, se voi acquistate il PlayStation Network Plus Una cosa simile che per chi ha PlayStation deve acquistare Vi daranno, grazie, non so, forse ad una collaborazione Non lo so, però Fatto sta che se lo acquisti ti daranno dei oggetti da sbloccare su Fortnite E la cosa bella è che li otterrai subito Quindi sono inclusi in questo, lo possiamo chiamare Abbonamento di PlayStation Network, PlayStation Plus Una cosa simile Quindi, se hai PlayStation, mi raccomando Acquista subito sto pacchetto Perché mi sa che sarai molto felice Riceverai una skin ed un piccone su Fortnite Adesso, guardate qui Intanto abbiamo davanti il super mega boss clombo Ma io dico Ancora non riesco a capire quando cavolo è grande Cioè, è immenso Penso che sia il boss E anche il budino più grande Che sia mai stato aggiunto su Fortnite Però, detto ciò Direi di passare alla prossima news Che riguarda le armi Ora qui voglio tutti gli OG di Fortnite Che lasciano un bel like Perché ritornerà ufficialmente Il pompa del nonno e il tac Beh, è ritornata Pinnacoli E io tra l'altro ve l'avevo detto un mese e mezzo fa Eh, non per dire E adesso ritorneranno chiaramente Le super armi OG che hanno reso Fortnite Un gioco indimenticabile Sono i due fucili a pompa La novità è che torneranno In una versione potenziata Cioè, io già mi chiedo Il fucile a pompa è fortissimo di suo Vi immaginate il pompa del nonno potenziato Cioè, diventa un'arma veramente micidiale Iscriviti se sei felice Tu dirai sicuramente Gio, però Quando cavolo escono queste armi Le voglio usare adesso? Beh, mi dispiace dirtelo Ma adesso non le puoi usare Altrimenti te l'avrei detto Voi sapete che io vi dico sempre la verità Quindi queste armi usciranno il 23 febbraio Quindi ci sarà un aggiornamento in game Che metterà questi due fucili a pompa E alcuni dicono che ritorneranno In tutte le sue versioni Soprattutto noi vogliamo quella leggendaria Sei d'accordo con me? Lo Scar H Hai sentito bene L'arma più forte Più devastante di Fortnite E tra l'altro Mi l'ho dimenticato di dirti Che insieme alla skin di Green Goblin Metteranno anche la sua Arma micidiale in game Che è tipo quella super granata Piccicosa Che la lanci Si attacca E genera un esplosio Stavamo dicendo Prima che il telefono squillasse E mi interrompesse Che... Cosa stavo dicendo? Ve lo sono dimenticato Accida e spolicchia Vabbè dai Passiamo alla prossima news Allora Abbiamo un altro mega temporale Che dovrà arrivare su Fortnite Perché questo temporale Dovrà segnare il passaggio Tra la season 1 del capitolo 3 E la season 2 del capitolo 3 Quindi Ne vedremo veramente delle belle Dovrà essere un mega temporale Molto più pericoloso Di questo tornado Che alla fine Non ci hanno neanche fatto un evento E probabilmente Tutti noi budini Verranno disabilitate le armi E saremo insomma Tra virgolette Obbligati a vedere Questo super mega temporale Proprio nella scena Dell'evento finale Della season 1 del terzo capitolo Lascia un bel mi piace Se queste news ti sono piaciute Iscriviti E io ti ricordo Di non mancare Sabato 22 gennaio Alle ore 17 Per la super live Con Mattiz Faremo server privati E dipende in quanti saremo Magari anche Delle super sfilate di moda Mi raccomando Porta i tuoi amici Attiva la campanellina Per non perderti nessuna notifica E nessun video E io ti ricordo Che mi trovi live Alle 14 su Twitch Lì se hai Amazon Prime Ti abboni gratis E alle 18 Qui su YouTube Mi raccomando Non mancare Io ti aspetto Ciao ciao